Selezionate lo strumento cerchio e premete in un punto dello spazio per identificare il centro della circonferenza e inserite il raggio. Nel caso aveste qualche dubbio nell'utilizzo di uno strumento, aiutatevi con le informazioni della riga di comando o premete il tasto F1 mentre tenete il cursore sull'icona del comando per aprire la guida online. Vediamo ora come utilizzare lo strumento arco. Premete sulla freccetta inferiore e selezionate Inizio centro fine. Questa tipologia di comando ci permette di generare un arco indicando il punto d'inizio, il centro e la fine. Ricordate che ogni arco viene sempre generato in senso anti-orario, quindi per ottenere l'angolo esplementare dovrete invertire l'ordine di selezione dei punti. Come vedrete esistono differenti tipologie di comando arco, ognuno è stato pensato per facilitare la realizzazione dell'arco a partire da differenti costruzioni geometriche. Lo strumento rettangolo vi permetterà di generare quadrilateri indicando i due spigoli opposti oppure inserendo le misure dei lati. Con Poligono realizzerete figure geometriche regolari. Potrete costruire le geometrie iscritte o circoscritte in un cerchio oppure inserendo la misura di un lato. Grazie. Ora vedremo come muoverci nello spazio. Ruotando avanti e indietro la rotella otterrete un effetto di zoom, mentre premendola due volte ingrandirete la schermata fino ad inquadrare tutti gli elementi grafici. Per muoversi verticalmente e lateralmente all'interno dello schermo, tenete premuto contemporaneamente Shift e tasto sinistro del mouse. Per ruotare il piano di lavoro, utilizzate le frecce ricurve in alto nell'angolo a destra. Come ultima cosa, vi farò vedere come generare un nuovo layer. I layer sono sostanzialmente dei livelli in cui disporre linee differenti per spessore, colore o significato, e il loro corrispettivo nel mondo reale sono i fogli da lucido. Premete su Proprietà layer per aprire il pannello di controllo e generate un nuovo livello cliccando questa icona. Il primo tutorial è terminato. Riguardate i punti chiave e fate un po' di esercizio per fissare i concetti.